eh beh ascolta eh allora l'unico ceppo no eh ho detto è più alta ma se te prendi l'unico pezzo più alto cazzo ti tocca bravo contrario sì caro ce la fai ce la fai dai lele bravo dai fagli vedere com'è fagli vedere e che cavolo Joe bravo Joe via via dai bravo e che cavolo contrario contrario l'ultima volta è dopo il contrario eh dai forza fagli vedere se ti tronchi sì perché dopo basta eh allora devi prenderlo giù perché se coppa ti spinge fuori lo vedi all'ultimo eh ma perché tu lo prendi di cattiveri io lo proprio lo faccio io lo compagno ecco adesso che devo girare perché è la pianta che ti fa paura e lasciarla andare giù e basta però se te la prepari prima è lì a destra giù vai è più facile questo dai contrario preparatelo al contrario grazie a tutti